Il rappresentante delle Nazioni Unite per la Siria, Ezeldin Ramzi, dice che nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi positivi e che i colloqui di pace potrebbero riprendere entro fine agosto, ma ad Aleppo non si può più aspettare. La città è divisa in due con le truppe fedeli a Bashar al-Assad che stanno assediando la parte est della città, da dove i ribelli e i jihadisti continuano a colpire i quartieri ad ovest, in mezzo una popolazione ormai allo stremo. Abbiamo tantissima gente senza casa, sentiamo anche la mancanza sia di acqua sia di elettricità. Ieri e l'altro ieri c'erano anche persone intossicate perché c'erano anche dei missili chimici che sono stati lanciati sulla nostra zona. Invece di dire quali sono le medicine che non si trovano nelle farmacie, meglio forse è più facile dire quali sono le medicine che si trovano oggi nelle farmacie. Niente acqua, niente elettricità, niente medicine e missili al gas nervino sparati dai jihadisti sulla popolazione civile nella zona ovest, mentre nella zona est, secondo le Nazioni Unite, restano bloccate almeno 300.000 persone, un terzo sono bambini, anche se nei giorni scorsi l'esercito siriano aveva aperto quattro corridoi umanitari per permettere ai civili di lasciare la città. Hanno utilizzato questi corridoi le famiglie che vogliono veramente uscire da quella parte est e vogliono allontanarsi dai militari e non sono legati a questi gruppi di milizie che lanciano questi missili e terrorizzano gli altri. Bisogna arrivare a un dialogo, bisogna arrivare a un accordo di pace, ma sembra che questa ricerca è fallita. Grazie.